Noi già governiamo insieme con questo modello, modello Liguria, modello Genova, in provincia, in regione, in tanti municipi, in tanti comuni che ci hanno portato a vincere alle scorse elezioni. Quindi penso che potremo superare i singoli elementi programmatici. È evidente che poi ci sarà la connotazione dei singoli partiti che hanno comunque esperienze differenti nel proprio interno. Detto questo però, la cosa che esce da questo vertice è in particolare è una sola. Sono tante, ma una è la più importante, e cioè l'unità della nostra coalizione. Noi rimarchiamo l'unità di questa coalizione, di questo modello di coalizione. Tutti però si aspettano di sapere se Marta Vincenzi sarà sì o no il vostro prossimo candidato. Non potete proprio dire nulla, anticipare nulla. Guardi, noi l'abbiamo già detto in tanti modi. Tutti chi si aspetta, immagino che soprattutto la stampa si aspetta di saperlo. Anche i cittadini. Sì, a un anno di distanza dalle elezioni, i tempi li decidiamo noi. I tempi li decidiamo noi, il percorso lo decidiamo noi. Certo, scioglieremo il nodo, io spero, prima dell'estate, ma appunto è frutto di una discussione che è anche difficile, è anche una discussione difficile all'interno della coalizione e all'interno dei partiti.